Nicola, per te l'architettura è anche un racconto, perché lo racconti con il video, lo racconti attraverso il mondo dei social e anche prendendo degli spunti da altri progettisti. Quindi si potrebbe dire che, per quanto conosco, può essere anche un progetto partecipato, ove la partecipazione ha dei tempi diversi, è un tuo progetto, però forse mai come nel tuo caso ho notato questa mettere a disposizione delle ricerche che poi vengono condivise. Questo mi fa molto piacere. Innanzitutto il progetto è condiviso con il luogo, il luogo dove nasce. Abbiamo un paese che ha tantissime sfaccettature, quindi dal nord al centro, al sud, alle isole, e l'architettura di per sé cambia. E la luce cambia. E l'aria. La luce siciliana, pugliese, è diversa dalla luce del nord. Certo. E anche il tipo di architettura, quindi dove cambia la luce, dove cambia anche la termica di quel luogo. In Puglia abbiamo dei luoghi chiusi, i trulli sono luoghi chiusi perché dovevano mantenere lo spazio fresco. Ecco, quindi è importante rapportarsi con il luogo. Quindi la tua è un'architettura contestualizzata, a tutti gli effetti. Sì, contestualizzata. Naturalmente c'è del mio, nel senso che il progetto poi nasce da una struttura che è soprattutto lo studio del luogo. Lo studio della committenza. Cosa si aspetta quel committente da me? Qual è il suo tipo di vita quotidiana? Quindi come decide di vivere questo spazio? Si spera una committenza colta nel senso non tanto del progetto ma delle richieste che va a fare. E la materia. Ecco. Poi, la materia legata al luogo. Per me è quasi inconcepibile utilizzare un marmo cinese, utilizzare un marmo che venga dal nord Europa e utilizzarlo qui in Italia. Quando abbiamo delle cave e dei marmi splendidi. Cioè cerchiamo di attivare la nostra economia perché abbiamo tanta forza e tanta bellezza da comunicare al mondo intero. Nella giornata di oggi salterà fuori tante volte questo tema del made in Italy, del saper fare in Italia, del saper produrre. Ed è anche diventato un marchio che non è più il made in Italy ma è la via italiana al progetto. Molti architetti, molti teorici parlano di questo. Allora, forse quello che stavi dicendo si inserisce in questo filone. Credo proprio di sì. Ce l'hanno insegnato i nostri predecessori, i nostri avi. Non gli ultimi, non per ultimi, ecco, voglio dire, Gio Ponti, Mollino. Stavo proprio... I padri fondatori della Repubblica del Progetto. Della Repubblica del Progetto perché sono un po' gli eredi del... Forse tra gli ultimi, ecco, del secolo passato, che stimo molto per non parlare di Carlo Scarpa e di tantissimi che... Terragni, cioè architetti che hanno lavorato qui in Italia ma che abbiamo esportato nel mondo. O amici che studiano in Inghilterra e conoscono benissimo, voglio dire, Terragni e quant'altro perché negli università non fanno altro che mostrare questi progetti. Le loro ricerche e il loro osare anche rispetto ai materiali. Senti, rispetto a questo periodo di crisi diffusa, reale, ma anche spesso forse amplificata rispetto a determinate situazioni, la decorazione che interviene, no? Quasi come un trompe l'oeil del momento. Come la vedi nel rapporto al tuo progetto? Allora, per quanto riguarda il decoro, diciamo, io non ho mai abusato di questa parola. Era una domanda tendenziosa. Sì, non ho capito. Non ho mai abusato di questa parola perché, ecco, è una situazione ultima e finale. Per me il progetto è lo spazio. Delitto e ornamento, dai. Il progetto è lo spazio. Quindi deve essere scolpito dalla luce, dalla materia, dalla fruizione spaziale degli ambienti. Quindi il progetto è dato da tutto questo. Il decoro lo lascio poi alla fine al cliente finale, ma quando io sono andato via da quel progetto... Quando hai fatto l'ossatura, diciamo così. Quando hai fatto l'ossatura, sì. Un'ultima domanda, brevissima, sugli oggetti che intervengono in un progetto architettonico. Le porte, siamo ospiti. Gli altri oggetti che intervengono, gli accessori, le aperture, le finestre. Cioè, forse si è avuta un po' l'impressione che nella ristrutturazione c'è una presistenza. Quindi è difficile andare ad intervenire. Ma forse si ha l'impressione oggi che ci sia un progetto un po' più coordinato. O la possibilità perlomeno di lavorare su determinate cifre stilistiche. Assolutamente sì. Cioè, hai nominato le porte. Per me sono importantissime. Le porte, le finestre all'interno di uno spazio. Proprio perché si lavora sullo spazio. E questi elementi, che sono anche di arredo, cioè non sono solo di arredo, sono anche di arredo, sono fondamentali all'interno dello spazio. Perché sono le soglie. Cioè, è in realtà... La soglia in architettura e in metafisica. È ciò che ci mette in comunicazione con lo spazio esterno. È ciò che ci mette in comunicazione con il vissuto esterno e con tutto quello che abbiamo accennato prima. Quindi con il nostro mondo esterno. E quindi lavorare su questa soglia che ogni volta che noi la attraversiamo succede qualcosa. E si spera che succeda qualcosa di bello, sia in entrata che in uscita. Insomma, ci sia lo stupore, ci sia l'emozione. Al tema della soglia è molto molto importante. Grazie. Grazie.